E' nato a Palese il primo modello di albergo scuola d'Italia, finalmente un'applicazione pratica dei mille percorsi scuola-lavoro. La struttura è stata costruita riqualificando uno dei plessi abbandonati dell'Istituto Alberghiero Majorana in collaborazione con la provincia di Bari, proprietaria dell'immobile. 40.000 euro l'investimento dell'ente pubblico per un albergo che sarà gestito da docenti e studenti. I più meritevoli verranno selezionati al termine del ciclo di formazione scolastica, ma la struttura servirà anche come palestra didattica per stage e pratica aziendale. Inizialmente svolgerà un servizio di bed and breakfast con sei stanze, di cui due riservate ai diversamente abili, al costo di 60 euro, colazione inclusa. In futuro è prevista l'attivazione di una cucina. Una decina agli occupati, previsti nella prima fase tra reception, addetti alla sala e governanti, tra i servizi offerti a turisti e uomini d'affari, il bus navetta di collegamento con l'aeroporto di Bari. A gestire all'albergo la cooperativa sociale Maiorana formata da insegnanti e allievi. Questo è un esempio pratico di come dovrebbe essere e su questa prospettiva stiamo lavorando, come la scuola può coniugare apprendimento e pratica, quindi scuola e lavoro. Questo è un esempio vero di scuola e lavoro.